Per me la scena più difficile è stata quella del bagno, perché lì veramente il mio personaggio cambiava, lì veramente il mio personaggio capiva tutti i suoi sbagli e lì veramente allegra riusciva ad essere, riusciva a venire fuori, riusciva a mostrarsi nelle sue fragilità e nelle sue debolezze, cosa che fino a prima non aveva fatto, aveva sempre venuto dentro, aveva sempre nascosto e quindi pensavo che fosse difficilissimo affrontare quella scena lì. Ti dirò è stato più difficile il pensiero di farla che poi farla, perché una volta che è partito il ciak mi sono lasciata andare e mi sono fatta attraversare da tutte le emozioni che mi potevano passare in quel momento e poi vum, sono esplose in questa crisi di panico che lei ha in quel momento, perché veramente gli manchiano i suoi genitori, veramente lei li casca e dice no non ce la faccio più, si lascia andare.